Aveva 86 anni Ugo Crescenzi, originario di San Benedetto del Tronto. Si trasferì a Pescara dopo gli studi a cui costruì la sua famiglia e la sua storia politica. Presidente merito della regione Abruzzo nel 1970, nel 1987 deputato della democrazia cristiana. Tra i riconoscimenti il merito di aver fatto emergere Pescara all'interno del suo partito, inserendola così nell'ambizioso piano di sviluppo che portò poi alla realizzazione di infrastrutture capaci di trasformare la sua rilevanza a livello regionale. Ad accoglierlo questa mattina davanti alla Chiesa del Sacro Cuore di Pescara, amici, sostenitori e rappresentanti di governo per porgergli l'ultimo saluto. Certamente la memoria di un uomo che ha onorato con il suo lungo impegno le istituzioni, che ha servito come primo presidente della storia della nostra regione, come deputato, come mai disinteressato alle questioni dei territori. Oggi l'abbraccio di una famiglia, se vogliamo, più ampia di quella costituita dalla moglie, dei figli, dai tanti dieci nipoti, ma anche una famiglia politica che si è ritrovata oggi attorno a un suo leader del passato per dirgli arrivederci e dirgli anche grazie. Grazie.